150 euro per un presidente di seggio, 120 per scrutatori e segretari. È questo il rimborso stabilito dalla Regione Umbria a coloro che il prossimo 27 ottobre saranno impegnati nella gestione tecnica del voto regionale. Possono partecipare coloro che sono iscritti all'elenco dei presidenti e degli scrutatori. A Gubbio la scelta di dare la precedenza agli inoccupati. Il 4 ottobre scade il termine per presentare la domanda di disponibilità per l'ufficio di scrutatore. Anche quest'anno abbiamo dato la priorità a chi non lavora, a chi non percepisce reddito, quindi studenti disoccupati. La domanda può essere presentata entro e non oltre il 4 ottobre 2019 presso l'ufficio elettorale oppure per email elettoralechiocciolacomune.gubbio.pg.it